kate middleton la foto che fa scoppiare il caso sui social la principessa del galles amatissima dai sudditi del regno unito è stata paragonata spesso a lady diana per la sua eleganza e vicinanza alla gente recentemente una foto pubblicata su instagram ha sollevato molte polemiche la pagina instagram princess diana iconic look ha pubblicato una foto di kate con un turbante creata dall'intelligenza artificiale l'immagine voleva esprimere solidarietà per il brutto male che la principessa sta affrontando e per le terapie che sta seguendo nonostante le buone intenzioni molti utenti hanno criticato il post definendolo totalmente non necessario e disgustoso tuttavia altri hanno manifestato il loro sostegno con messaggi di affetto e incoraggiamento per kate augurandole una pronta guarigione